. Barbara D'Urso sottopone la Inger alla macchina della verità, ecco il risultato. Domenica Live, una nuova registrazione audio conferma le accuse mosse da Avenger. Colpi di scena a ripetizione nel corso della puntata del 25 febbraio di Domenica Live. Il caso Cannagate sull'Isola dei Famosi ha praticamente monopolizzato la puntata con il confronto tra Avenger, Craig Warwick e Cecilia Capriotti. Il sensitivo e la showgirl non hanno confermato le accuse mosse dell'attrice nei confronti di Francesco Monte. L'ungherese ha chiesto a Craig di guardarla negli occhi mentre smentiva di aver riferito che l'avrebbe sostenuta nella questione della droga. L'ex concorrente del reality show ha ribadito di non aver visto nulla e di non aver fatto nessuna promessa alla Inger. Dall'altra la Capriotti ha affermato di aver visto l'ex tronista fumare. Ma sinceramente non ho visto cosa fumava. La 39enne ha sottolineato che Eva non è bugiarda, ma che non può confermare quello che ha detto in palapa durante l'esperienza in Honduras. Sulla questione è intervenuta anche Nadia Rinaldi, che ha precisato che la produzione l'aveva messo a conoscenza del polverone sollevatosi in Italia per la questione sollevata dalla 45enne. Gli inviati di Striscia in studio, nuova prova audio. A questo punto sono entrati in trasmissione Valerio Staffelli e Max Laudadio con una nuova prova audio. Gli inviati di Striscia la notizia hanno fatto ascoltare la registrazione soltanto a Barbara Dulso invitandola a non riferire il contenuto della conversazione. Al termine della lunga testimonianza la conduttrice si è limitata a riferire che questa persona ha confermato quanto dichiarato da Eva Ingeri in queste settimane. La conduttrice ha invitato Staffelli e Laudadio a far ascoltare la registrazione ad Alessia Marcuzzi. Sono sicura, che sarà disponibile e tratterà la questione nella puntata di martedì. Gli inviati di Striscia hanno precisato che l'audio fa riferimento ad una persona diversa da Chiara Nasti. Nel frattempo in studio sono proseguite le discussioni con Cecchi Paone, che ha invitato gli eliminati ad essere sinceri. Se dovesse emergere che avete mentito diventerete poco credibili. Eva Inger dice la verità. Durante la trasmissione Eva Inger si è sottoposta alla macchina della verità, che ha confermato che l'attrice ha detto la verità sul caso Monte. Non ho tirato fuori la vicenda della droga per vendicarmi della nominazione. Secondo la macchina su 10 risposte l'ex star Alucirossi ha detto sempre la verità. Lo strumento è attendibile al 93%. Subito dopo anche i naufraghi eliminati hanno chiesto di sottoporsi alla macchina della verità. Barbara D'Urso ha precisato che il test sarà effettuato nel corso della prossima puntata di Sottoporsi.